fate via il movimento di coppia, provate avete visto sotto l'obiettivo, lui ha fatto rumore, non ha guardato appoggiare i piedi vai Maggot allora, notate bene adesso il movimento, fermati Creed, tu ti sposti verso l'esterno Maggot, tieni il fucile puntato lì ok, ok, e hanno beccato l'obiettivo ci siamo? Adesso lo ripetiamo